Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Francesco Totti ha incantato tutti con il suo cucchiaio e altre prudezze calcistiche La coppia che forma con Ilari Blasi ha poi stregato i fan per la complicità che si è sempre respirata tra di loro Ma cos'è questa storia della vita noiosa? La verità, ancora una volta, potrebbe essere diversa da come sembra Sono sempre stati una coppia molto amata per la grande intimità e complicità che si respira tra di loro, ed è per questo che le recenti voci sulla loro presunta crisi matrimoniale hanno gettato nello sconforto i tanti fan dei due Francesco Totti e Ilari Blasi si sono sposati nel 2005 e da allora mai avevano dato segnali di qualsivoglia criticità comiugale Francesco Totti e Ilari. Anzi, a rendere ancora più solida la loro immagine ci hanno pensato anche i tre figli che hanno coronato il loro sogno d'amore Le loro nozze le ricordano tutti benissimo, erano splendidi, giovani, innamorati Ora gli anni sono passati, le ultime vicende hanno sorpreso l'opinione pubblica ma sembra, a sentire le dichiarazioni pubbliche di lei alla trasmissione Rai Belve, che sia stata tutta una macchinazione Ma cos'è, a questo punto, la storia della vita noiosa? Una storia tutta da scoprire, in realtà Francesco Totti e quell'intima rivelazione della moglie.Quando Francesco Totti ha salutato il mondo del calcio è stata, per molti, una giornata triste Lo storico capitano della Roma e campione del mondo è sempre stato considerato un simbolo, un giocatore da annoverare nelle leggende del genere al pare degli altri grandi Il suo cucchiaio è rimasto nella storia, così come pure la sua maglia, la mitica numero 10 Ma anche la sua vita privata è stata sempre, in un certo senso, sotto i riflettori, perché con la moglie, Ilari Blasi, pure lei personaggio in vista del mondo dello spettacolo, i due hanno costituito la classica coppia di bellissimi che ha fatto ricredere nella forza dell'amore più di qualche deluso Nessuno avrebbe mai potuto credere a una crisi coniugale tra i due, sposati da quasi vent'anni e con tre splendidi figli Eppure quella storia, poi smontata da Ilari, ha infiammato il gossip Ed esimie testate se ne sono occupate Ma, invece, cos'è questa faccenda della vita noiosa? Non è come può sembrare Noi vita noiosa, ecco tutta la verità.Sì, le dichiarazioni, riportate da Anticipazione If It, sono di qualche tempo fa e fanno capire molto sulla loro complicità di coppia, che qualche macchinazione, il termine è della moglie, oggi conduttrice dell'isola dei famosi, avrebbe voluto in crisi Ecco cosa diceva la bella presentatrice, noi vita noiosa. Ci sottovalutate E poi aggiungeva, in relazione alla loro quotidianità e alla loro sfera intima, privata, quella non visibile a tutti, noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia La moglie di Francesco Totti parlava poi, appunto, delle feste in casa con gli amici Insomma, la routine di una bella, normale, famiglia. Una famiglia che entrambi hanno dimostrato di voler difendere Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao